amiche e amici di gocce di libri bentornati sul canale io sono daniela oggi ho in serbo per voi un nuovo format di video infatti ho messo insieme cinque diverse piccole recensioni recensioni brevi di alcune letture ultime fatte e siccome sono state filmate in momenti diversi mi vedrete con capelli e vestiti diversi da questo insomma e spero che questo nuovo format mi piaccia fatemelo sapere e intanto vi auguro buona 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 visione e ci vediamo dopo per i saluti manuale per ragazze di successo è un libro a racconti di paolo cognetti ma non vi fate forviare dal titolo le storie di queste donne non sono per niente dei simboli di successo ma sono in realtà storie di quotidianità opache di fallimenti sia sentimentali che di carriera comunque nei punti in cui non si sa bene cosa fare della propria vita però c'è comunque un risvolto della medaglia qualcosa che si può imparare da queste situazioni quindi forse c'è una morale al di là degli insuccessi perché ognuna di queste donne riesce comunque a prendere la loro vita tra le mani e ricominciare e questo secondo me è una prerogativa molto femminile e qui vorrei tanto ascoltare i maschietti cos'hanno da dire perché quello che almeno sperimento io nella mia cerchia di amicizie è quello di vedere delle donne che quando finiscono delle situazioni possono essere di carriera o anche sentimentali eccetera loro non si voltano indietro ma vanno avanti e cercano sempre di imparare qualcosa dalle esperienze e ricominciare quindi c'è questa grande forza sicuramente importante che che vince insomma che si evince da queste pagine di questi racconti io amo molto cognetti l'ho detto in qualche video precedente però devo dire che questo libro non mi ha proprio entusiasmato ma il motivo molto semplice non sono un amante dei racconti perché non riesco a in poche pagine diciamo così affezionarmi ai personaggi che si raccontano quindi e c'è sempre questa questa distanza ecco che non riesco a colmare quindi per questo libro dico né la custode dei segreti di jaipur di al kayoshi questo è il seguito di l'arte delle nea jaipur che ho letto un anno fa una piccola parentesi sul primo libro è senza svelare troppo e siamo nel 1955 e l'axmi la protagonista del libro scappa da un marito violento e viene anche ripudiata dalla sua famiglia d'origine per lo scandalo e si rifugia jaipur dove diventa un artista delle nee ma non solo perché lei un esperta erborista grazie alla suocera vende anche delle pozioni e dei rimedi naturali alle donne alle sue clienti e con gli anni l'axmi si è creata una clientela molto abbiente aiutata anche da un ragazzino che prende un po sotto la sua ala come quasi adottato è un bambino di strada chiamato malik che diventa un po il suo assistente e le cose cambiano drasticamente quando la sorella di l'axmi arriva a jaipur e quindi è un animo ribelle che scombinerà un po i piani molto quadrati di l'axmi e metterà anche a serio rischio la sua carriera finisco qui il commento con il primo perché vale veramente la pena di leggerlo nel secondo ritroviamo i nostri protagonisti 12 anni dopo malik ormai uno splendido ventenne e viene mandato da l'axmi a fare un praticantato presso una famiglia di amici che lavora nel ramo dell'edilizia e a seguito di un crollo di un edificio che era stato inaugurato proprio nella sera dell'inaugurazione questo cinema splendido crolla e malik viene a conoscenza di alcune situazioni che potrebbero inchiodare i colpevoli di questo crollo e l'axmi arriverà in suo aiuto e ci sono altre situazioni intriganti che fanno parte del libro ma non ve le svelo altrimenti non sarebbe più una review veloce però è un bel sì anche per questo libro sabbia nera di cristina cassarscalia è il primo libro della serie dedicata a vanina guarrasi la vice questore di catania che investiga e come ho spiegato in un video precedente in cui parlavo delle prossime letture che avrei fatto e considero vanina un po montalbano in gonnella perché con montalbano condivide la golosità e anche un team di collaboratori molto spassosi con cui vanina interagisce soprattutto il commissario patanè che che è un pensionato in realtà ma si intrufola sempre nelle indagini e un libro che consiglio una serie che consiglio io avevo letto l'ultimo e il penultimo della serie però diciamo che ripartendo dal primo la situazione non si discosta molto dalla situazione attuale degli ultimi libri e quindi si ritrovano tutti i sapori profumi della sicilia è un giallo un po comico ma il giallo c'è tutto quindi un bel sì per questo libro giancarlo de cataldo la svedese questo libro giallo che ha per protagonista charon una ragazza di borgata siamo a roma e charon incappa in un giro di spaccio e attratta dalla faccia di guadagni inizia una scalata criminale una scesa criminale e che metterà in luce anche tutte le sue qualità da leader questo provocherà anche molte invidie e la storia si infittisce con complotti per mantenere il potere io ho amato molto questo personaggio e credo che la storia il finale abbia la possibilità di un seguito quindi sarebbe anche interessante vedere una versione in televisione perché il nostro de cataldo non è insomma nuovo a situazioni del genere visto che lui anche l'autore di suburra e io non l'ho visto subura però insomma se ci fosse una protagonista donna lo guarderei sicuramente un grande sì per questo libro sarà al tramonto di maurizio de giovanni lo definirei se si può un giallo struggente perché c'è una bellissima storia d'amore tra la protagonista del libro e il suo compagno purtroppo scomparso e poi c'è questa questo giallo da risolvere che dove vede una bambina in pericolo imminente quindi è importante risolvere questo caso in maniera molto celere e la nostra sarà questa pensionata poliziotta in pensione lei era ruolata nei servizi segreti e diciamo era una profiler perché era detta a intercettazioni non autorizzate però era anche molto abile nel carpire il labiale oppure interpretare nelle espressioni le posture di chi delle persone che investigavano e viene insomma richiamata al dovere e investiga appunto su questa misteriosa situazione in cui è convolta una bambina con l'aiuto di un commissario di polizia e della sua nuora con cui lei crea un bel rapporto purtroppo sarà la nostra protagonista ha perso anche il figlio non solo il compagno quindi vive veramente in uno stato depressivo e deve prendere dei tranquillanti dei sonniferi per riuscire a dormire però anche a questa nuora viola riesce un attimino a a vedere un barlume di speranza perché la nuora tra l'altro è anche incinta quindi è un bel terzetto che investica e devo dire che è un giallo molto incalzante e lo consiglio vivamente proprio bello bene video brevissimo oggi e spero che vi sia piaciuto questo mix di recensioni veloci è un format che penso piacerà come piace moltissimo il format di prossime letture infatti il prossimo video sarà proprio dedicato alle mie prossime letture quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perderlo quindi ci vediamo al più presto qui su gocce di libri intanto vi auguro indovinate un po buona lettura ciao